Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Calabria di WW2 Come vedete ci sono molti giocatori Allora stiamo a 5 kill E in 10 secondi ne ho fatto tutti i 5 Se lo può dire Jacopo Che è tra qui e noi No ne ho fatto i 5 In oggi ho fatto 34 cose Scusate raga che non sono stato A fare video oggi Perché sono andata a casa di mio miglior amico Jacopo E' vero che sono E' vero che sono venuta a casa tua E' vero che sono venuta a casa tua No ovviamente no Sono andata a casa solo di un mio amico Tanto muori là Muori muori Vuoi vedere E' morto o no Si sei io Si sei Io sto a 5 Ma Jacopo Che stavo schettando Quindi E' chissante? Ancheบadlerin niente Oh Vabbèè so Che ci so Si faremo dei video insieme su calditi perché lui a lui si sta aggiornando e si sta ancora installando un po ma dove inizia il cancro al seno ho visto cosa e allora leva di dallo share play sono sul ponte superiore no aspettate raga vado a fare un attimo una cosa che mi sto piaciendo tutto ho un attimo in bagno lo so che voi non lo volete capire ecco torno subito due secondi perivolo spia nemico avvistato approvvigionamento nemico non devono rifornirsi eccomi raga scusatemi belivolo spia nemico avvistato scusatemi quanto devo arrivare approvvigionamento nemico non devono rifornirsi c'è un belivolo da controspionaggio nemico atterriamo no qua 5 di giù la raga non so perché ero io 5 approvvigionamento nemico non devono rifornirsi bombardamento nemico al riparo limolo spia nemico avvistato no è uno sto scherzando approvvigionamento nemico non devono rifornirsi guarda che c'è un belivolo spia nemico avvistato no dai vabbè raga dai davvero non abbiamo perso non abbiamo fatto 9 kill mi hanno giocato male beh è vero ne devo ancora riscaldare un po' sono stato muo a casa dell'amico mio terzi raga terzi c'è 20 kill ecco 2 9 non stai più nello share play grande è bravo è perché ci mette più oh pala americana mo si che possiamo no però la pistolina è forte vabbè la pala americana è forte mettiamo la pala americana pala americana voglio provare voglio provare quel mirino che secondo me eh no solo ieri no si direi a fine sono andata a dormire alle 11 11 e un quarto e mezzo no è un quarto è un quarto perché controllate le armi e uccidete il nemico che stigata voglio provare a usarla sentete in campo e onorate la patria oh ora sta come dire non è un quarto male voglio usare però sono a usare siamo in vantaggio tattico forza no vabbè dai dai vabbè ma questi col fuoco cioè no non puoi vedere subiamo gravi perdite no è una tipa non è una tipa non è una tipa vabbè ancora dobbiamo vedermos non è un quarto che paura vabbè non è un quarto non è un quarto oh che paura il sovranalio nostro c'è via Movimenti al balcone della torre Movimenti nel quartile Siamo nettamente superiori Vabbè riguarda 3 kill Nelivolo spia in volo Mi ricordo la prima E' la seconda partita Lì mi tre partite Prima mi devo riscaldare E' speciale a 20 Quanto stiamo? Oh se no dopo facciamo un video insieme Ma che paura mi sembrava Ehm facciamo Dopo facciamo un video Sì facciamo Che te complica la DVD Velivolo spia nemico avvistato Velivolo spia nemico avvistato Approvvigionamento nemico Non devono rifornirsi Non c'è rumore però Dio santo Caccia in avvicinamento al bersaglio Lo spaventare la pionna E' qualcosa Guardi 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 vabbè tanto devo morire qua c'ho resistito per tre bombardamenti merda 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 la città di venisse un colpo riga basta io non ce la faccio più affa col pompa col fuoco non c'è secondo me proprio senso perché devi uccidere subito il soldato quello là del fuoco che c'è il pompa col fuoco aereo spia partito e in cerca di bersagli approvvigionamento nemico non devono rifornirsi bomba freak six sganciata bombardamento nemico al riparo stiamo dominando avanti così colpi di mortaio nemici indietro fuoco con la prima batteria bersaglio confermato huog Grace questo lo schifto è un altro buco roffò o Vigionamento nemico! Non devono rifornirsi! Bombardamento nemico! Al riparo! Elivono da controspionaggio nemico! Alle scale! Abbiamo vinto! 12 milioni! Buonino! Non mi piace ragazzi! Non mi piace il ciocchino! Non mi piace il mio mare! 29 quello! Vabbè dai di livello 39 poi è in classificata! Che figata! Nei commenti e iscrivetevi al canale! Ciao a tutti raga! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!